Ciao ragazzi, buongiorno, sono le 10 di mattina, ho ancora un po' di raffreddore, anzi un bel po' di raffreddore buongiorno dal mio studio di registrazione, il Caracorum International Studio di Cortona sono le 10, non è ancora arrivato nessuno, anzi adesso sono andati tutti a fare colazione, a prendere il caffè giù in paese a Cortona io sto aspettando gli Avengers, i miei supereroi, oggi ci aspetto un'altra giornata di musica, questo studio tra un po' si riempirà di musica guardate che bello il casco che mi ha regalato Vale, cazzo questo è bellissimo, questo è bellissimo e questa è la foto dei Beastie Boys con i Randy MC e lui è il mio amico Adam, MCA questa è la lettera che mi ha scritto Ben Harper, grande Ben e niente, qui, questo è un cappello da pilota che mi ha regalato Ballo, Ballo Ballo, il grande bassista di Cesare niente, guardate, ma la cosa più bella che ho in studio ve la posso far vedere, eccola qua autografo originale di James Brown con scritto I feel good bello eh, questo sono io, fatto da un grande, dal più bravo napoletano di quelli che fanno le statuette per il presepio insomma mi ha messo nel presepio, niente, oggi si parte si, si riparte, ieri abbiamo scritto secondo me un paio di cose molto belle vi saluto con Carlos Gardel Carlos Gardel che porta sempre allegria e la Vergine di Guadalupe e anche Lee Scratch Perry il grande inventore del dub niente, dal mio studio è tutto buon sabato, buona domenica io oggi farò solo una piccola pausa per vedere l'arrivo del Giro d'Italia che c'è il mio amico Bennati anche se oggi non è la sua tappa perché c'è molta salita lui è un velocista, però insomma guardo anche tutti gli altri, saluto e niente, noi oggi andiamo avanti a lavorare perché stiamo facendo, cosa stiamo facendo? cosa stiamo facendo? stiamo scrivendo canzoni semplicemente per non è prevista un'uscita imminente ma ci portiamo avanti buttiamo giù delle idee anche se mi piacerebbe uscire a fine anno con con qualcosa con qualcosa insomma adesso non ve lo posso dire non ve lo posso dire ciao a tutti che sia una bella giornata e un buon fine settimana per tutti voi domani è la festa della mamma mi raccomando mi raccomando tutte le vostre mamme dategli un grandissimo abbraccio e io manderò un pensiero alla mia ciao a tutti ciao 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 a tutti ciao a tutti